5 operai rimasti fuori dopo anni di servizio, lavoratori storici del consorzio di bonifica di Venafro che non saranno riconfermati per il lavoro stagionale. La motivazione che è arrivata come una doccia fredda è semplice, attualmente non ci sono abbastanza soldi per ulteriori assunzioni. La denuncia del sindacato USB, 16 unità sono state chiamate per prestare servizio durante il periodo di maggior pericolo per gli incendi, 13 sono i lavoratori storici, 3 invece neoassunti. Per i 5 operai storici che sono stati lasciati a casa dopo 30 anni, adesso la strada è tutta in salita. Aspettavano soltanto la chiamata per un lavoro stagionale di 110 giorni, per raggiungere l'anno contributivo e agganciarsi alla disoccupazione agricola. Quella della mancanza di fondi è soltanto una scusa, secondo Sergio Calce, segretario regionale USB Molise. Continuamente parlano che non ci sono fondi. I fondi sono stati assegnati da parte della regione, sono stati spesi, hanno assunte persone nuove, con tutto il rispetto sempre per chi lavora e per l'occupazione, ma non si possono tenere fuori gli storici. Questi lavoratori sanno fare tutto, sono 30 anni, non si può parlare di tecnici, di qualifiche, di esperienza. Sono stati tenuti fuori, penso forse anche perché iscritti a USB. Noi non ci fermeremo. Adesso devono avere altri fondi per le dighe. Allora l'assessorato dei lavori pubblici deve dare questi fondi. La promessa di stamattina del Presidente è quello che appena arrivano questi fondi assumeranno le persone che non sono state assunti, cioè gli iscritti USB, e domani scadono altri contratti. Il consorzio è fermo, è bloccato, l'irrigazione non c'è, fa caldo, l'agricoltura a questo punto è tutta ferma. Ecco, allora noi diamo tempo fino a metà luglio, altrimenti, in nostro malgrado, siamo costretti a fare una grande manifestazione con i trattori, gli agricoltori, con i cittadini per risolvere questo problema.